a quanto pare ho superato i 100 iscritti sono contento, non avrei mai pensato che sarebbe mai accaduto attualmente faccio solo questo video veloce perché non ho intenzione di fare altri video attualmente stanno andando su youtube quelli del dottor Ratkil per questo mi va bene così questo non significa che mi fermerò a fare video ho solo un piccolo problema che verrà risolto quando questa pandemia sarà finita perciò ringrazio a tutti spero sempre per il meglio questo è tutto, non ho nient'altro da aggiungere per tutto il resto ci vediamo alla prossima se ci si clicca ciao